buonasera allora anche senza sigla del nostro canale adesso ci andiamo a vedere un firmato riguardante il brasiliano perché stamattina è stato accusato dal mattino il mattino online scrive sempre parte del giornale il mattino di essere andato in un bar di non aver pagato per la consumazione e quindi di essere andato via senza pagare e lui certamente replica a questa cosa nel finale di questo filmato eccolo qua a voi il filmato un vecchio saggio direbbe non dire gatto si non scella e allo stesso modo si non c'è l'uffatto ti vedevi di tanto si c'è l'uffatto che cazzata 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 il brasiliano che ha fatto che cazzata che cazzata che cazzata a quelli del mattino fratelli ti garantisco che per pagare bari ce l'ho dedicato la verità fratelli sono sincero fratelli fratelli sono sincero fratelli a quelli del mattino a quelli del mattino e fratelli no ancora per pagare caffè ci avevo due sordarelli dai che e poi mi sa che non è un caffè fratelli te lo dico io sinceramente ciao 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 ciao